Finalmente sono arrivate le prime reazioni, non spoiler, per quanto riguarda la seconda stagione su Loki, che sto aspettando con particolare interesse, poiché la prima stagione mi è piaciuta anche se ci sono diversi difetti di cui ne abbiamo già parlato sia nei video sia nelle live, tempo fa quando uscì la prima stagione. Questa seconda stagione se non erro ho letto saranno sei episodi, comunque andiamo subito a vedere cosa hanno detto queste persone che hanno avuto la possibilità di vedere la stagione completa. Infatti sono stati svolti dei test screening, come spesso accade, delle proiezioni di prova e ci sono delle determinate persone che possono vederlo. E devo dirvi la reazione è stata molto positiva, tutti ne parlano molto bene, si dice sia una stagione ottima e anche lo stesso Scooper Walsh, mi sembra si chiami, che è uno Scooper molto attendibile, sostiene che queste mini recensioni, se così possiamo chiamarle, sono veritiere e anche lui ha sentito parlare in maniera ottima del prodotto anche per quanto riguarda la variante di Kang che vedremo all'interno di questi sei episodi e abbiamo avuto anche un piccolo assaggio nella post credit spoiler di Ant-Man and the Wasp Quantumania. Ok, quindi da questo punto di vista sono molto curioso sia di rivedere Owen Wilson nei panni di Mobius perché secondo me era il personaggio che mi ha colpito di più perché Loki, Loki di Tom Middleston, sapevo già che mi sarebbe piaciuto perché poi è un bravissimo attore, il personaggio è pieno di sfaccettature, anche se io sostengo che la serie non era, non serviva perché secondo me il personaggio aveva detto tutto quello che poteva dire, quindi la sua morte io l'avevo accolta in maniera anche positiva perché il suo percorso era finito. Però comunque sia, ripeto, a netto dei difetti la prima stagione mi è piaciuta, quindi speriamo bene, speriamo che queste cose e queste dichiarazioni siano vere anche se vi avverto che spesso queste proiezioni di prova lasciano un po' il tempo che trovano perché di solito gonfiano molto a queste recensioni, chiamatele come volete. Quindi speriamo bene, se per caso ci fosse qualcuno di nuovo iscrivetevi al canale e noi ci vediamo la prossima.